E' stato eletto il nuovo consiglio d'amministrazione della società aeroporto di Catani che gestisce appunto l'aeroporto Fontana Rossa come noto per il 25% la società di proprietà della Camera di Commercio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa fra i 5 componenti eletti però non vi è alcun siracusano e tutto è stato spartito fra catanesi e ragusani con la presenza perfino di un rappresentante della provincia di Caltanissetta territorio che non ha alcuna partecipazione azionaria all'interno della capitale sociale della SAC. E' chiaro commenta l'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo che ancora una volta Catania con la complicità del governo regionale ha inflitto un'umiliazione pesantissima e insopportabile alla provincia di Siracusa in pratica all'interno della SAC da padroni siamo diventati garzoni e ancora Vinciullo nonostante con i nostri capitali abbiamo consentito la costituzione della società. E il tutto continua ad accadere nel silenzio dei rappresentanti istituzionali eletti dal popolo siracusano per difenderli e tutelarli ma che fanno finta di non sapere e di non vedere. Il dato che però ci offende dice ancora Vinciullo è che dobbiamo ascoltare le declamazioni quotidiane della politica catanese che dopo aver fatto acquistare con soldi del patrimonio siracusano alla SAC l'aeroporto di Comiso adesso addirittura pretende che i nostri soldi e il nostro patrimonio dice ancora Vinciullo venga acquistato anche l'aeroporto di Trapani dove tanti investimenti a perdere affatto fino ad oggi la regione siciliana.